Trasporti pubblici urbani a Siracusa tra criticità e proposte. Il problema dei trasporti pubblici a Siracusa è per ora impantanato fra deficit cronici e nuove emergenze che rischiano di vanificare gli sforzi che grazie anche all'impegno del sottoscritto sono stati compiuti per un servizio di importanza vitale per tutta la comunità cittadina. A parlare è Sergio Bonofede, ex consigliere comunale di Siracusa. È impensabile che a oggi non vi sia nessuna certezza per chi voglia spostarsi con un mezzo pubblico tra le diverse zone di Siracusa e pertanto ribadisco all'amministrazione comunale in carica alcune priorità che vanno subito affrontate. Pena l'eliminazione totale di qualunque collegamento urbano per quanti non possono fruire di mezzi propri. I continui aggiustamenti che vengono operati per cercare di risolvere il problema a capolinea sono semplici i pezzi peggiori del buco. La priorità resta tenendo conto della conformazione urbana delle diverse zone, assicurare il collegamento nelle direttrici nord, sud ed est, ovest e viceversa. La città si è molto espansa, serve un trasporto pubblico efficiente, puntuale, inclusivo e capace di tenere conto nei suoi itinerari della obbligazione delle principali sedi pubbliche, prefettura, ASP, nelle diverse diremazioni, scuole di ogni ordine e grado, musei, uffici giudiziari, edifici religiosi, eccetera, oltre a cimitero e casa circondariale. Negli ultimi due anni nulla è stato fatto per implementare e migliorare il servizio, fino al punto da ridurlo nei mesi di lockdown a sole sei linee urbane. In vano il sottoscritto aveva elaborato e ufficialmente presentato una sua proposta organica per rivisitare ed efficientare un servizio pubblico, che in partenza avrebbe dovuto già qualificarsi come integrato. Invece oggi Siracusa soffre già per i dubbi dove debba essere allocato il terminal, che il sottoscritto è ipotizzato al parcheggio di Molo Sant'Antonio, già utilizzato da bus turistici vicino alla stazione ferroviaria, che provvisoriamente era rimasto fino al 30 giugno ai villini di Corso Umberto, senza pensiline, senza informazioni e senza servizi igienici, conclude Sergio Bonafede.